Un caro saluto a tutti e benvenuti in nostra compagnia con le immagini che arrivano da Firenze. È un tardo pomeriggio domenicale di inizio primavera, ma è una tappa importante, come sempre cruciale, come sempre significativa della nostra avventura, della nostra stagione. Ecco il cross, secondo palo, colpo di testa di Caceres, palla che va sulla traversa. Grande salvataggio, Kier, Kier lancia, Ibra, 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 gol di Zlatan! Gol di Zlatan, ma si abbracciano i nostri, è fuori gioco? È fuori gioco? È buono, è buono, è buono! Subito! L'assist di Kier, il gol di Z, punto! Occhio Sandro, sono due, al limite dell'aria, attenzione, Pulgar, è il gol, gol di Pulgar su punizione. Gigio l'aveva presa a mano aperta, ma non è riuscito a deviarla fuori. Ecco la Fiorentina che mette in mezzo, è l'incrocio dei pali, incredibile, di Viola, di tacco. Pezzeglia stava per fare gol al volo di tacco in area. Un gol alla Roberto Mancini. La palla data bene dentro a Cialanoglu, Cialanoglu può entrare, Cialanoglu, Ibra, 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 traversa, pazzesco, pazzesco, traversa di Zlatan. Clamorosa occasione nostra, traversa di Zlatan che ha scucchiaiato su Drongovski, vediamo. Era buono, era buono, era buono, era buono. Palla di Ibra, Ibra perché sì, che sì, limite dell'aria, che sì, che sì. Ciala, Ciala non tiriamo, Ciala, la palla esce di pochissimo, la palla esce di pochissimo. Cialanoglu, un gran tiro, palla che esce di pochissimo. E Pulgar allarga verso Martínez Quarta, che porta palla sulla destra, deve uscire Teo, palla messa in mezzo, Vlaovic, il tiro e il gol. Gol di Ribery. Gol di Ribery. Fiorentina in vantaggio. Azione pulita della Fiorentina. Gol di Ribery che risponde a Ibra. Siamo un po' molli. Ecco, Cialanoglu ancora dalla bandierina. Colpo di testa. Gol! Gol di Brahim Diaz. Gol di Brahim Diaz. Gol di Brahim Diaz. Gol di Brahim Diaz. Ha pareggiato Braimino. Bravo Braimino. Bravo Braimino. Gol di Diaz. Il pallone dato da Teo a Zlatan. Zlatan ancora. Zlatan va al cross. Ecco, palo, palo di Zlatan. Il tiro di Ibra. Terracciano è rimasto lì, pensava andasse fuori. E invece la palla ha colpito il palo, ragazzi. Isma Benna, che bello poterlo pronunciare. Serve Ciala. Ciala, Ciala, Ciala. Ciala, viene in mezzo. Ciala, si ferma. Abbiamo tanti uomini in attacco. Brahimino, Brahimino. Va al cross Brahimino. Per Teo, Teo. La tocca a Teo. Fuori di niente. Fuori di niente. Voglio all'angolo Teo. Eseric, Pulgar, la spizza. Dai che è nostra, dai che è nostra. Grande Fichtomori che ha detto giusto. Brahim Diaz, Brahim Diaz. Che sì, che sì. La compagna, che sì. Che sì, la scucchiaia per Cialanoglu. Il tiro. Gol! Cialanoglu meraviglioso. Achi! 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 Sempre a Firenze. Sempre con la Fiorentina. Achi Ciala. Turco 10. Nostro e vostro. Splendido Achi. Splendido. È finita. 3 a 2 a Firenze. Nel momento di massima allerta. Il Milan in trasferta è la squadra più forte del campionato. Senza se, senza ma. Il Milan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pioli on fire. La 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 la. È finita la partita. Abbiamo vinto noi. Che è la cosa che conta di più. Che è la cosa più bella del mondo. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.